Forme d'onda, segnali musicali e notizie nella notte, un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Forme d'onda, segnali musicali e notizie nella notte. Forme d'onda Forme d'onda, segnali musicali e notizie nella notte. Forme d'onda, segnali musicali e notizie nella notte. Grazie a tutti e buon anno, anche se un po' in ritardo perché non siamo andati in onda la settimana scorsa, quindi ormai siamo a gennaio inoltrato, però ci sta sempre bene, un augurio di buon anno. Sì, assolutamente. D'altro insomma questa è poi la prima puntata del 2023 se vogliamo, per cui così ce lo fissiamo anche nella testa. Allora, questa sera ci occupiamo di quello che sta succedendo in Svizzera, in particolare di questo World Economic Forum e di quanto accade a Davos. Sì, tra l'altro ecco non siamo andati in onda la settimana scorsa e avevamo già programmato in realtà questa puntata, cioè questa sarebbe stata la puntata della scorsa settimana, poi ci sono stati dei problemi e non siamo andati in onda, ma tra l'altro quando abbiamo avuto l'idea diciamo di fare questa puntata, io nemmeno mi ricordavo che proprio questa settimana ci sarebbe stato il forum di Davos, perché l'idea diciamo che ci è venuta un po' tutti e due perché tu hai postato un articolo su Facebook riguardo al World Economic Forum e a quelli che sono i personaggi legati a Schwab e alle sue varie fondazioni, in particolare quello era sul settore giovanile, diciamo, del World Economic Forum e poi appunto avevamo avuto quest'idea di approfondire e di fare proprio una puntata dedicata a questo e non mi ricordavo che era proprio questa settimana che c'è la riunione annuale che appunto che fanno ogni anno in Svizzera, quindi cadiamo proprio nell'attualità, ecco. Sì, infatti. Anche se comunque non ci occuperemo solo dell'attualità, ma spiegheremo proprio che cos'è il forum, quali sono gli obiettivi, come si lega a questo progetto del grande Reset appunto, di cui tanto si parla in ambienti di controinformazione, diciamo. Eh sì, infatti. Allora, c'era Pietro che diceva, ma non siete inviati? Sì, noi stiamo in uno scantinato a Davos, fa un freddo cane. Ecco perché non siamo riusciti ad andare in onda la settimana scorsa, però c'eravamo preparati, insomma, in anticipo. Sì, infatti, gli alberghi sono tutti prenotati perché chiaramente ci sono migliaia di personaggi che arrivano e quindi noi siamo costretti a stare in uno scantinato. Tra l'altro non solo gli alberghi, ma anche le agenzie di escort, questo iniziamo con la prima nota di colore per una notizia che è uscita qualche giorno fa, che praticamente le escort, le agenzie di escort sono tutte prenotate per i giorni del forno. Noi ci eravamo portati avanti con le pratiche la settimana scorsa, ma già era sold out, per cui sì, pazienza è andata così quest'anno. Va bene, allora, a parte gli scherzi, diciamo, entriamo un po' nel vivo. Allora, intanto sarebbe interessante capire, insomma, chi cavolo è questo Schwab, insomma, da dove esce fuori, perché poi ecco, la cosa che veramente a me in qualche modo spaventa è il fatto che questi abbiano creato un forum dove poi ci vanno tutti, compresi i capi di Stato, insomma, capi o funzionari dei vari Stati, insomma, poi vedremo, magari ne parleremo anche di questo aspetto qui, però questa cosa è veramente strana, insomma, perché noi eravamo andati la settimana scorsa a cercare un po' di biografie, no, di Schwab. Abbiamo tralasciato chiaramente quello che si trova su Wikipedia, volutamente, anche perché sappiamo come lavora Wikipedia, però, insomma, era interessante, su Britannica, per esempio, non si dice quasi nulla, veramente quattro righe messe in croce, insomma, cioè nel senso che non mi sembra che non ci sia neanche indicata, se non sbaglio, la data di nascita di questo signore, e si dice semplicemente che è fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum che lui ha fondato nel 71, quindi questa cosa è già da anni che va in giro e che opera poi, diciamo che forse all'inizio non so quanto se ne parlasse di questo, io almeno negli anni 70 non ne sentivo parlare moltissimo e anche negli anni 80, poi non so, secondo me comunque loro hanno preso piede, diciamo, forse dall'87 in poi, però adesso lo vedremo, insomma, anche da queste note che noi abbiamo raccolto. Allora, appunto, è famoso per questo incontro appunto che si sta svolgendo, ecco, quest'anno e proprio in questa settimana in Svizzera, attira principali leader del mondo, degli affari, del governo, società civile, insomma, tutto il mondo, ha conseguito lui, Schwab, dottorati in ingegneria meccanica e in economia, oltre a numerose lauree onoris causa sulle quali, insomma, magari possiamo anche proprio, cioè, fregarcene perché se sono state date, diciamo, quei metodi che conosciamo valgono praticamente come il due di picche quando regna a cuori. Nel 98, insieme alla moglie Hilde, ha creato la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, insomma, è difficilissimo da dire, forse non ci riesce manco lui, che sostiene oltre 350 imprenditori sociali in tutto il mondo. E poi questi imprenditori sociali, vorrei sapere che cosa vuol dire secondo Britannica, io non sono andato a cercarlo, non so se tu ne hai un'idea, Stefania. Ma credo che siano queste nuove definizioni che danno adesso, no? Per indorarti la pillola, no? Cioè, per farti credere che questi sono meglio dell'imprenditore classico, cioè di quello che cerca solo il profitto, credo che sia qualcosa del genere. Infatti uno dei termini che per esempio al World Economic Forum utilizzano spesso è questo termine stakeholders, cioè i portatori di interessi, cioè perché si sostiene questa teoria per cui non è solo il, diciamo, la dirigenza di un'azienda che ottiene profitto o comunque interessi dall'azienda stessa, ma tutta una serie di altri personaggi collegati, tra cui anche i lavoratori, perché ecco appunto ti fanno credere che tu comunque fai parte di questo processo, no? Di questa creazione dell'economia e quindi c'è questo termine appunto portatori di interesse che è molto vago, non si capisce, in realtà infatti è stato anche criticato da molti anche economisti proprio per questo, per il fatto che dice tutto e non dice niente alla fine, cioè che significa portatori di interessi, quindi tutti saremmo portatori di interessi, però poi alla fine sappiamo bene invece come funziona il capitalismo, ma loro fanno credere di essere a favore di un capitalismo più etico, diciamo così, anche se non lo è affatto, anzi. Infatti. Eh sì, immagino che sia uno di questi nuovi termini che girano da un po' di tempo, insomma, sai, come tutti quelli del politicamente corretto, insomma, diciamo, fa parte di quella cosa lì. Sì, come questi termini che vanno tanto adesso, tipo resilienza, sostenibilità, tutti questi termini che poi peraltro non sarebbero neanche così negativi, originariamente non lo erano, però loro li hanno presi e li hanno distorti e ne hanno fatto quello che hanno voluto, insomma, per i loro interessi e adesso portano avanti questo mantra continuo della resilienza, c'è anche il famoso PNR, il piano nazionale di resilienza e l'altra R, non so, non mi ricordo che cosa significa. E rivoluzione. Eh sì. No, ma infatti, sì, vabbè, è questo mondo che questi vorrebbero cercare di plasmare, sarà il loro mondo, non sarà forse il nostro, però comunque viene anche un po' da ridere, insomma, a pensare a queste operazioni, insomma, che sono veramente ridicole. Sì, adesso vedo un commento di Pietro che dice, tipo un Farinetti dei nostri di Italia, infatti, sì, la filosofia è quella, diciamo, Farinetti è uno, sicuramente non è neanche lontanamente paragonabile a Schwab per il potere che ha, però è sempre quella, la filosofia che portano avanti è quella, infatti dice Pietro, ma che poi i lavoratori gli fanno causa perché sono sottopagati. Eh sì, infatti. Sì, sì. Allora, poi abbiamo, allora, da un'altra biografia invece che io sono andato un po' a scovare in giro, questa magari forse rimane un po' più interessante, diciamo non tanto per quanto riguarda le date, però magari per inquadrare ancora un po' meglio questo World Economic Forum. Allora, come sempre appunto è nato nel 71, allora era nato come European Management Forum, quindi diciamo che all'inizio forse aveva un'intenzione più aziendale, cioè diciamo rivolta verso le aziende, verso le industrie, verso il management, no? All'epoca insomma lui era alquanto giovane e nel 71 appunto riunì oltre 400 partecipanti per una conferenza appunto in una città delle Alpi Svizzere che appunto è Davos, e lì è rimasto come sempre l'appuntamento, il suo successo ha dato vieta all'istituzione che Klaus Schwab dirige oggi. La missione è espressa nel suo motto, allora attenzione, impegnato a migliorare lo stato del mondo. Allora, la sua missione si realizza coinvolgendo i leader del mondo economico, politico, accademico e di altri settori della società per definire le agende globali, regionali e industriali. Quindi, già no? Questa è un po' come la storia del club di Roma, Budapest e quant'altro, no? Tutti impegnati a migliorare l'ambiente e poi insomma abbiamo visto che dell'ambiente se ne strafregano, insomma, vabbè, poi abbiamo visto anche quello che è successo riguardo appunto anche a questa specie di protesta che c'era stata da parte di Greenpeace in questi giorni lì davanti, no? Perché appunto contestavano il fatto che arrivano con getti privati, con SUV, con macchinoni che consumano litri e litri e litri di carburante. A noi invece ci dicono che dobbiamo abbassare la temperatura in casa perché, purtroppo, insomma. Poi l'anidride carbonica è un problema, insomma. È strano però che con questa... Io... Mi viene, insomma, in mezzo è strano. È strano che ancora non si sono attaccati agli alberi che producono l'anidride carbonica tutti i santi giorni, ma come mai? Cioè... Come mai? Non se la sono presa con gli alberi. Ma sai, su questo, insomma, io ho i miei dubbi. Anche vedendo quello che sta succedendo, no? Pure proprio a livello industriale, non so se era di ieri o l'altro ieri, la notizia e la Toyota farà solo e unicamente macchine ad idrogeno. Non so se vi è arrivata questa notizia. Il che praticamente vorrebbe dire che queste macchine elettriche già le stanno frullando fuori dalla finestra, secondo me, o comunque, insomma, poco prenderà piede perché poi comunque sia... se tanto mi dà tanto, visto anche pure, no, quello che sta succedendo in Italia, che adesso se tu hai già una macchina ibrida o ce l'avrai elettrica, ce l'avrai il fisco alle costole, perché chiaramente quella è una macchina che costa, quindi come fai a permetterti una macchina... cioè, veramente siamo in un momento di isteria proprio, non so come chiamarla, cioè, veramente schizzoide, perché veramente, cioè, se uno dovesse decidere quello che vuole fare nei prossimi cinque anni dovrebbe dire non lo so proprio, perché, cioè, dove andremo a finire non lo sappiamo ancora. Se poi funzioneranno, diciamo, tutte queste cose che questi signori si prefiggono di fare, ovviamente, eh? Eh beh, certo, sì. Allora, vediamo un po'. Allora, qui ci dicono che... E comunque, riguardo a quella frase che hai sottolineato, cioè il motto del World Economic Forum, infatti quello che colpisce sempre, no, di tutte queste operazioni, non che stupisca, perché ormai non ci stupisce più niente, dato che conosciamo bene i meccanismi, come funzionano questi organismi di potere, però colpisce sempre vedere come riescano a apprendere delle frasi, dei motti, delle filosofie, anche delle forme pensiero, e a stravolgerli completamente. Cioè, tu hai fatto anche, l'esempio del Club di Roma, l'ambientalismo stravolto completamente, cioè mi in possesso di un qualcosa che ha delle istanze positive, e però lo mando dove voglio io. Quindi è sempre questa operazione di ribaltamento, no, di cui abbiamo parlato spesso, in varie, per varie tipologie di operazioni, ne abbiamo parlato spesso, lo stravolgimento che poi è tipico di un certo mondo che si potrebbe definire controiniziatico, no, anche parlando in termini esoterici e spirituali, perché noi facciamo sempre questi collegamenti, non parliamo, è vero che questa puntata sarà sul World Economic Forum, quindi si parla di un qualcosa di molto materiale, ma ci sono sempre delle ragioni esoteriche, spirituali anche per tutto questo. Quindi la cosa che mi colpisce è proprio questa, il fatto che riescano proprio a ribaltare tutto quanto, anche l'operazione Greta, ne abbiamo parlato spesso, poi dopo ne parleremo anche di Greta, perché Greta ritorna anche nella giornata di oggi, proprio del World Economic Forum, però anche lì si prendono delle istanze positive di ambientalismo, di voglia di fare del bene per l'ambiente, per gli animali, eccetera, però completamente soggiogato al potere, quindi per gli interessi del potere, che non sono sempre e solo materiali, sono anche di altro tipo, appunto. Eh sì, infatti. E adesso c'è quest'altro passaggio, diciamo, di questa biografia che ho trovato, che è estremamente interessante, perché vi fa capire, vi fa fare facilmente, diciamo, dei ragionamenti. Qui, su questa biografia appunto si dice, è stato Schwab a portare avanti la visione di un forum basato sul principio che il progresso economico senza sviluppo sociale non è sostenibile, mentre lo sviluppo sociale senza progresso economico è impossibile. Allora, qui è veramente diabolica come cosa, almeno io la trovo proprio così, perché praticamente loro cercano di creare uno sviluppo sociale che è completamente anti-umano. no, ce ne siamo accorti, poi in particolare anche con quello che è successo con il Covid-19. Non a caso lui dice che il Covid-19 è stato proprio un momento importante per loro, perché hanno capito in qualche modo che lo sviluppo sociale loro lo possono completamente manipolare come vogliono e non solo, lo vogliono anche addirittura controllare completamente, mettere sotto controllo tutta la gente, insomma, sappiamo attraverso la digitalizzazione e quant'altro. E appunto dice, lo sviluppo sociale senza progresso economico è impossibile, cioè praticamente è come se la società appunto, siccome è una massa di pecore, di idioti, non può pensare diciamo a uno sviluppo economico sostenibile per il pianeta, ma ci devono pensare direttamente loro. E quindi loro ti danno già, hanno già tutti gli strumenti diciamo per mettere in piedi una cosa del genere. Io almeno ecco questo passaggio lo trovo veramente diabolico, perché non lo so, a te la palla. Sì, 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 infatti lo è, ma infatti tu giustamente hai detto che questi progetti, questo piano è anti-umano, e infatti poi questo si collega anche al discorso del transumanesimo, cioè al fatto che uno dei progetti di Schwab, lui ne parla in generale proprio del forum di Davos e di tutto quello che ruota intorno al forum di Davos, che non è appunto soltanto economico e politico, ma sono progetti anche di altro tipo, e il transumanesimo è proprio l'unione tra l'uomo e la macchina, quindi è qualcosa di veramente pericoloso e diabolico appunto, e che va a snaturare completamente l'uomo, quindi sì, è anti-umano tutto ciò che sta scritto sul libro, sui libri perché non ne ha scritto solo uno, di Schwab e tutto quello che c'è nei progetti del World Economic Forum è anti-umano assolutamente. Eh sì, infatti. Niente, io riguardo a questo, poi vorrei farvi anche fare una piccola riflessione, cioè io penso che ci sono delle cose che attraverso una legge potrebbero essere immediatamente abolite, allora guardate per esempio quello che è successo con tutta questa storia della plastica, ecco faccio uno dei tanti esempi perché poi si potrebbe fare anche l'esempio della cosiddetta crisi energetica e quant'altro, intanto le crisi le inventano loro e lo sappiamo, però ecco per dire vogliamo abolire la plastica con un semplice decreto legge, visto che appunto i decreti erano così potenti addirittura da tenerci chiusi dentro casa agli arresti domiciliari per mesi, io con un decreto legge dico che da oggi o tra un mese praticamente tu che produci qualsiasi prodotto e lo metti dentro la plastica, chiudi, cioè o ti inventi altri imballaggi oppure tu non puoi più vendere i tuoi prodotti, perché la plastica è vietata per legge, da domani, dopo una settimana, dopo un mese la plastica sparisce, basterebbe fare una legge, non la fanno, quindi vedete, le leggi le fanno quando gli pare a loro il vitimere, certe libertà che invece andrebbero limitate, come per esempio l'uso della plastica, questo è un esempio stupido che io ho fatto, ovviamente, però importante perché ci stanno rompendo le scatole da anni ormai con questa storia, come se fossimo noi consumatori a produrre la plastica, noi ce la ritroviamo in più, la dobbiamo pure buttare dentro i secchi poi alla fine, però questo era tanto per dire questi quanto sono potenti, però diciamo il potere non lo usano mai per scopi giusti, ma per quello che gli interessa a loro, tant'è vero che nell'87 il signor Schwab cambia direttamente il nome in World Economic Forum, perché secondo lui rifletteva meglio la natura globale delle sue attività, e Schwab ha riassunto il forum come imprenditorialità nell'interesse pubblico globale, questo è quello che il forum sarebbe, non so. Eh sì, e poi l'altra cosa sempre collegata a questo, è il fatto che ufficialmente, loro si presentano, il World Economic Forum, si presenta come imparziale, adesso leggo testualmente da una cosa che avevo trovato, che non mi ricordo dove l'ho presa, perché avevo fatto copia e incolla, comunque è tipo questa che hai letto tu, insomma cioè sono cose che si trovano, potrebbe anche essere proprio dalla stessa Wikipedia, perché comunque qualcosa da lì avevo letto, anche se si trovano chiaramente le cose, solo quelle ufficiali, lo sappiamo e spesso sono anche distorte, anche quelle ufficiali, comunque il World Economic Forum sarebbe imparziale e privo di vincoli di natura politica, ideologica o nazionale, però il problema è che la fondazione è finanziata da circa mille imprese associate, che sono in genere multinazionali, con fatturato superiore ai 5 miliardi di euro e queste imprese sono quasi sempre leader nel proprio settore o nel proprio paese e hanno un ruolo chiave nell'orientarne gli sviluppi futuri, quindi cioè di quale imparzialità stiamo parlando? Sì, è detto proprio apertamente, non può essere imparziale una cosa del genere, non lo è, cioè sono loro che, il controllore che controlla se stesso praticamente, cioè sono finanziati da queste grosse multinazionali, quindi chiaramente cosa faranno? Faranno gli interessi delle multinazionali, questo è semplicissimo da capire e funziona sempre così in questi centri di potere. Allora, qui ci sono veramente quattro note biografiche, anche se ci tenevo insomma a dire che poi una cosa importante tra le tante cose che Joab ha istituito, c'è anche il forum dei giovani leader globali, che è una comunità di leader dinamici e stimolanti, così ce li dipinge, diciamo, questo sito. Sono smart, come si dice adesso. Sì, sono tutte smart, tutte piccolette. Tre giovani sotto i 40 anni per rispondere al crescente consenso sul fatto che le sfide che il mondo deve affrontare chiedono soluzioni integrate. e infatti la lista, diciamo, che stava pubblicata lì su Facebook che io ho trovato era, penso proprio di questo forum dei giovani leader globali, insomma, perché erano tutti i nuovi rampolli che il World Economic Forum partorisce, diciamo così. Allora, per quanto riguarda le note proprio biografiche, è nato a Ravensburg nel 1938, i genitori erano di origine svizzera, Schwab racconta l'eredità della situazione bellica ha avuto un enorme impatto su di me, mi sono interessato molto alla riconciliazione e al dialogo, dovevamo creare una nuova Europa basata su questi due aspetti. vabbè, insomma, poi ne hanno dato un sacco di dottorati, questo l'abbiamo già detto, e poi ecco appunto c'era questa parte che però già hai detto tu e quindi io non mi ripeto per quello che riguardava la teoria degli stakeholder, che hai già insomma spiegato abbastanza bene tu direi, quindi è inutile, diciamo così, dilungarci. prima della pausa musicale direi ecco possiamo chiudere diciamo con quest'altro, allora questa biografia io l'ho presa da, la fonte è da www.allamericanspeakers.com quindi se volete potete trovarla lì, chiaramente sono in inglese, e poi diciamo ecco insomma ho trovato anche questa, questa nota abbastanza interessante direi, che era un po' complottista no Stefani, non so se tu hai avuto il tempo di leggerla, vi leggo alcuni passaggi, diciamo così, dice molte persone iniziano a pensare che Schwab sia l'anticristo, sostiene che nessuno dovrebbe comprare o vendere senza un certificato di salute digitale, sostiene il transumanesimo insistendo sulla chiusura anche della religione, tra l'altro lui nel 2002 aveva poi anche chiamato diciamo dei rabbini, il rabbino di New York e poi di questa cosa magari ne parleremo perché quello è un documento abbastanza interessante, quello è molto interessante, quello è veramente interessante, quello che sono riuscito a trovare e poi ve ne parleremo dopo, questa nota diceva, non so se sia l'anticristo ma è un uomo molto malato e altamente pericoloso, qualsiasi leader mondiale che si recchi alle sue conferenze dovrebbe essere cacciato dall'incarico, quello che Schwab sta facendo è cercare di conquistare il mondo non attraverso un processo democratico ma sostenendo la tirannia, ho affermato più volte che i padri fondatori non comprendevano la storia romana e infatti questa nota è veramente interessante perché poi rimanda anche ad alcune cose che giustamente abbiamo detto noi e l'abbiamo detta anche spesso anche con Fausto Carotenuto proprio riguardo a come funzionava Roma la Repubblica e questa nota appunto dice i padri fondatori non comprendevano la storia romana pensavano che Giulio Cesare fosse un dittatore malvagio e che Catone e Cicerone fossero i buoni ma purtroppo non erano pienamente informati perché se lo fossero stati non avrebbero mai sostenuto una Repubblica tutte le Repubbliche della storia si sono trasformate in oligarchie Schwab ha invitato il suo nuovo manifesto comunista 3.0 a tutti i leader mondiali e a tutti i governatori premier di ogni Stato e provincia del mondo ha sfruttato il pericolo delle Repubbliche che possono promettere qualsiasi cosa per essere elette e poi per fare esattamente il contrario e qui insomma torniamo proprio pure alla nota che ci mandava prima Piero insomma se non sbaglio è questo il senso di una forma di governo rappresentativa i padri fondatori non erano pienamente consapevoli del fatto che il senato romano non era mai stato eletto dal popolo i senatori erano solo gli aristocratici e mai la plebbe non c'era alcun diritto di voto per il popolo e questo è esattamente il punto in cui ci troviamo ancora una volta ci dite qualsiasi cosa fate e fate esattamente il contrario a te il commento Stefania se vuoi no no non aggiungo non aggiungo niente a questo perché poi si l'avevo letto che era quello che uno dei documenti che mi avevi mandato non so chi l'ha scritto perché appunto viene da questo sito armstrongeconomics.com ok perché non sono andata a vedermi il link originale quindi non so chi è di che tendenza che l'ha scritto comunque sono interessanti in effetti questi richiami alla storia romana e alla alla vera natura della repubblica collegata insomma all'attualità e a questi centri di potere questo è interessante e poi per quanto riguarda una cosa cui tu hai accennato e di cui poi parleremo appunto adesso penso dopo la pausa è proprio questo questo suo legame con il mondo ebraico che non c'è solo in quello che diremo ma anche in un'altra cosa che ho trovato che è sempre legata al mondo di Israele comunque alle lobby ebraiche chiamiamole così pur non essendo Schwab ebreo perché lui credo che sia non so se ufficialmente forse è protestante di religione comunque fatto sta che lui ha questi legami molto forti con con Israele e col mondo ebraico e beh ma deve averceli per forza poi alla fine perché se pensiamo che comunque tanta finanza di quella specialmente che sta in America è di quella matrice lì d'altronde per cui non puoi farci i conti no infatti se non hai certi certi legami non vai avanti in quell'ambiente lì e soprattutto non diventi quello che poi lui è diventato insomma eh sì infatti bene allora facciamo la prima pausa musicale ci andiamo ad ascoltare avevamo sentito qualcosa mi sembra l'anno scorso di David Silvian e invece adesso lo riascoltiamo con un brano di Japan The Art of Parties Japan The Art of Parties l'arte delle feste allora questo era un brano che stava su Team Drum 1981 se non ricordo male allora vediamo vediamo i marchesi del grillo di Sandro dei nostri giorni eh sì infatti allora poi io so io e voi si legge anche che l'economia dice Pietro è ciò che determinerà lo sviluppo umano come unico modo e strumento in posizione dell'economia vabbè sì certo appunto allora se appunto dice così che l'economia è tutta è importantissimo insomma avere dei contatti poi insomma con le banche americane con i grandi trust diciamo anche tenuti dalle lobby ebraiche che sono in particolare negli Stati Uniti ma anche insomma in tutto il mondo direi allora Stefania tu ci sei eh sì infatti avevo visto anch'io questi commenti di Pietro sì infatti è questo poi il il riassunto di tutta la filosofia del World Economic Forum cioè l'economia appunto come unico modo e strumento come se fosse l'economia a determinare lo sviluppo umano cosa che non è perché perché non è stata per secoli perché poi ecco diciamolo cioè in realtà sì le monete venivano utilizzate anche nei tempi antichi ma se poi ecco parliamo addirittura dei romani dei greci addirittura erano più al tempo dei romani insomma io leggevo anni fa insomma dei testi che dicevano che poi alla fine le monete servivano molto più per far sapere diciamo ai confini dell'impero chi era l'imperatore che più che più che un mezzo diciamo di scambio in realtà perché comunque il baratto è andato avanti per secoli cioè ma addirittura era stato rimesso diciamo no anche durante l'ultima guerra durante la seconda guerra mondiale tanta gente si è aiutata attraverso il baratto insomma io avevo questo tu hai quell'altro ci si scambiava poi specialmente poi quando c'è stata la penuria anche di mezzi proprio di sostentamento importanti io ho avuto la testimonianza in famiglia di mio nonno che ha salvato la famiglia grazie a due sacchi di sale perché il sale era introvabile lui gli avevano regalato questi due sacchi lui praticamente con questi due sacchi ha comprato qualsiasi cosa insomma perché il sale non si trovava per cui cioè non è assolutamente vero cioè queste sono proprio vere e proprie come giustamente dicevi tu Stefania sono proprio delle vere e proprie forme pensiero che poi prendono piede e prendono sostanza diventano delle vere e proprie gregore poi alla fine eh sì e poi tra l'altro in realtà quella propugnata da da questi organi di potere come il World Economic Forum e anche altri in realtà non è neanche economia ma si parla di grande finanza che è una cosa ancora più cioè che proprio non c'entra niente con l'economia reale che appunto è fatta anche di scambio infatti non a caso poi si va verso la digitalizzazione l'eliminazione del contante quindi tutte queste queste fasi che loro vorrebbero attuare perché appunto non è più nemmeno economia ma è finanza che è un qualcosa di completamente diverso dall'economia ed è altissima finanza infatti tra l'altro all'interno del del board del World Economic Forum e poi anche tutti quelli che vengono invitati come esterni diciamo la maggior parte di loro in realtà sono banchieri o comunque personaggi che hanno a che fare con l'alta finanza più che con l'economia reale diciamo sì infatti beh mi verrebbe poi da dire che vabbè meglio di no meglio che non le dico queste cose lasciamo stare no però comunque sia rimane il fatto che è alta finanza come dici giustamente tu che però nasconde poi dietro un cumulo di speculazione di corruzione spaventosa certo sì sì sicuramente è questo quello che poi cioè i risultati poi si vedono esclusivamente da questo cioè i fatti poi sono questi perché poi ecco c'è proprio una c'è veramente una supponenza anche da parte di questi personaggi che proprio per il fatto che loro comunque possiedono tante cose diciamo a livello materiale si sentono comunque anche in dovere diciamo di dover condurre i popoli in qualche modo ma a loro serve semplicemente specularci sopra farsi gli affari loro a loro del mondo non interessa assolutamente nulla perché ecco abbiamo già detto prima insomma se basterebbe pochissimo insomma basterebbe poco per risolvere alcuni problemi insomma come ecco tutta quest'altra storia che adesso sta andando in giro di queste farine insomma di grilli e compagnia noi dobbiamo ce n'è stato un altro io adesso non so proprio l'altro giorno ho visto un'intervista di un altro di questi qui che continuava a dire sì la gente mangia troppa carne no noi ne buttiamo troppa di carne ne produciamo troppa ne buttiamo troppa e tutta quella che buttiamo oltretutto servirebbe per sfamare tutto il resto del mondo insomma per cui cioè la fame io sono io mi ricordo negli anni 60 ci hanno ci hanno violentato a noi bambini con con immagini dei bambini che morivano di fame in Africa sono passati 60 anni e stiamo sempre lì eh sì anzi stiamo siamo ad un punto in cui in cui proprio per opera di di questi di questi centri di potere come il World Economic Forum c'è un divario sempre maggiore e sta aumentando sempre di più tra quelli che sono straricchi e quelli che stanno diventando sempre più poveri quindi c'è questo divario che sta sta aumentando sempre di più la forbice si allarga sempre di più perché tra l'altro uno degli altri progetti è l'eliminazione diciamo del di quella che una volta era la classe media quindi quelli che non erano né né ricchi né poveri stavano bene semplicemente e che era la maggior parte delle persone poi nel mondo perlomeno nel mondo nel mondo occidentale perché chiaramente il cosiddetto terzo mondo o peggio ancora il quarto mondo sappiamo insomma in che condizioni è sempre stato nell'ultimo secolo però nel mondo occidentale quindi in Europa e in America non solo negli Stati Uniti ma proprio tutta l'America c'era sempre stata questa classe media che comunque stava stava abbastanza bene economicamente invece adesso si tende all'eliminazione quindi con tutti queste fa tutto parte di di questi progetti che poi è sempre fa sempre parte del progetto del cosiddetto grande reset questi sono queste sono le fasi che porteranno a questo e quindi si vede sempre di più questa forbice che si sta che si sta allargando tra i super ricchi e le persone che invece prima non erano povere ma che adesso invece lo diventano sempre di più eh sì infatti allora c'è questa riflessione di Pietro che è molto bella non so se tu volevi leggerla allora volevo rispondergli un attimo sì sì la leggo direttamente perché non l'ho non l'ho letta allora mi viene da pensare che spostando il focus sull'economia si sposta l'attenzione dal vero moto di sviluppo l'intelligenza la volontà umana potendo poi passare da questa magari alla macchina ovvero l'intelligenza artificiale come avete già detto transumanesimo sì infatti sì infatti il transumanesimo l'intelligenza artificiale la 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 iperdigitalizzazione l'identità digitale perché non solo non solo la moneta digitale ma anche l'identità digitale e eh sì è proprio così si sposta l'attenzione da quelli che invece veramente sarebbero le le vere facoltà umane eh sì sì ma poi ecco eh come giustamente dice si sposta l'attenzione del vero moto di sviluppo cioè si vanno a creare diciamo delle menti delle teste che ragionano con quel modo di vedere il mondo eh non a caso infatti lui ha messo su anche proprio un forum di rampolli perché poi questi dovranno portare avanti questo 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 progetto perché lui mi ha detto che lo vedrà compiuto per cui comunque l'intenzione è di comunque mandarlo avanti in questo senso però io non so quanto questo disegno gli potrà riuscire fino fino alla fine ne dubito perché comunque sia eh il covid 19 ha dato anche una bella sveglia diciamo a tanta gente e forse di questo loro non se ne sono resi conto ancora del tutto e più continueranno diciamo a fare progetti di questo tipo più io penso una grossa massa gli andrà contro perché comunque una massa diciamo di persone che si risvegliano e cominciano a capire diciamo quali sono i meccanismi non non è che la fermi così insomma poi specialmente abbiamo visto anche come le conducono poi queste cose perché ovviamente questi sono essendo appunto diciamo proprio dei movimenti anti-umani ovviamente non usano i metodi del tutto umani insomma e per loro diciamo la menzogna forse è la prima è la prima arma proprio cioè il fatto di mentire di 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 spararle grosse e anche di farle così grosse di non saperle neanche poi gestire poi alla fine per cui abbiamo visto insomma questo diciamo tutta la parte ecco abbiamo assistito a tutta la parte buona e dei buonisti diciamo così il club di Roma World Economic Forum tutte le sinistre che vanno dietro diciamo a tutte a queste ideologie state vedendo insomma quanti schiaffoni prendono da un po' di giorni a questa parte insomma poi parleremo anche di piccoli episodi che sono capitati proprio questi giorni insomma lì a Daos allora poi qui ne abbiamo un altro di commento molto lungo che vediamo un attimo è contattata dall'AFP il 20 dicembre 2002 la BCE ci rimanda al suo sito web dove spiega che l'euro digitale sarebbe una moneta digitale della banca centrale che sarebbe equivalente al contante ma in forma elettronica l'euro digitale migliorerebbe la resistenza della nostra moneta gli sviluppi tecnologici non regolamentati nei settori bancari e finanziari vabbè insomma queste sono le balle che praticamente ci vanno dicendo tuttavia la BCE specifica in particolare nelle sue domande frequenti che l'euro digitale sarebbe complementare al contante banconote e monete senza sostituirlo questi diciamo sono i progetti che hanno loro ma vedremo insomma come andrà a finire anche questa storia perché comunque abbiamo capito che pure con questa cosa del contante abolito non è che sta attaccando molto questa quest'altra idea pensiero non è che convince molto almeno gli italiani non sono molto convinti diciamo da questo punto di vista da quello che sento in giro allora Stefania vogliamo parlare proprio di questa cosa qui io proseguirei diciamo su questa cosa delle religioni che avevamo che avevamo accennato prima allora dici intanto che cosa hai trovato tu sì allora un legame appunto con il mondo ebraico e di Israele perché a Klaus Schwab è stato conferito il premio è un premio chiamato Dan David che porta il nome appunto di colui che ha istituito questo premio è un premio piuttosto recente perché da una ventina d'anni che lo conferiscono ma è interessante allora intanto il premio è promosso appunto dalla fondazione di questo Dan David e dall'università di Tel Aviv e conferisce questo viene conferito questo premio a ogni anno a tre tre soggetti che non necessariamente sono persone ma possono essere anche istituzioni o gruppi di persone che si sono distinti per eccezionali contributi nel campo della scienza della tecnologia della cultura e del benessere sociale ma la cosa interessante è che questo filantropo perché tanto sono sempre filantropi come George Soros che viene definito filantropo perché sembra una cosa una cosa bella una cosa positiva ecco questo filantropo appunto Dan David è interessante la sua vita o meglio quel poco che si trova perché veramente sono due righe che si trovano allora lui è nato in Romania da una famiglia ebraica all'età di 16 anni si unì a un movimento sionista giovanile poi dopo gli studi universitari in economia si rivolse alla fotografia e lavorò per la stampa rumena cominciò anche a lavorare per una rivista rumena con diffusione europea ma fu licenziato quando fu scoperto il suo passato di sionista quindi a quel punto lasciò la Romania e si trasferì a Parigi e poi negli anni 60 emigrò definitivamente in Israele poi fece anche dei viaggi in Europa dove stabilì dei contatti eccetera e aprì anche delle filiali di un franchising di fotografia appunto per le cabine per fare le fototessera questo in alcuni paesi e ha aperto delle filiali anche in Italia tra l'altro e quindi insomma è interessante la vita di questo personaggio perché praticamente questo questo soggetto è un sionista dichiaratamente sionista che poi appunto è andato a vivere in Israele poi è diventato uomo d'affari filantropo appunto e ha deciso di istituire questo premio che viene dato ogni anno e nel 2004 venne conferito questo premio proprio a Schwab e tra gli altri che hanno ricevuto questo premio ci sono dei nomi interessanti perché per esempio c'è c'è il nostro Giorgio Napolitano nel 2010 gli è stato dato questo premio poi il giornalista Magdi Allam Al Gore nel 2008 Al Gore che poi Al Gore è anche nel board dei membri del World Economic Forum Al Gore anche lui super ambientalista che è stato un po' il precursore nel 2006 2007 è stato un po' il precursore di quello che poi è diventato anche l'ambientalismo alla Greta diciamo è un po' il padre ideologico di Greta Thunberg diciamo che tra l'altro gli è stato dato anche il premio Nobel ad Al Gore proprio per questo suo grandissimo impegno ambientalista poi altri personaggi Tony Blair poi chi altro c'è sto scorrendo rapidamente ah ecco l'anno scorso anzi nel 2021 questo premio è stato dato per la salute pubblica a Anthony Fauci ah ecco perché chiaramente che ha fatto molto per la gestione del covid quindi che fai non gli dai un premio e quindi gli hanno dato questo premio quindi è interessante anche questo premio sconosciuto perché io non sapevo dell'esistenza di questo premio sempre appunto legato a Israele al mondo ebraico sì poi quando dicevi questi nomi cioè se la cantano e se la suonano cioè si danno i premi da sì sì esatto ma facciamolo pure noi infatti sono sempre loro ma infatti anche i nomi che compaiono facciamo pure noi un premio di forme d'onda che ne sono ma infatti anche i nomi che compaiono nel board del proprio dei membri del World Economic Forum alla fine sono sempre gli stessi sono gli stessi che poi frequentano il Bilderberg che frequentano altri gruppi di potere la commissione trilaterale il gruppo dei 30 di cui noi abbiamo parlato cioè per esempio nel board del World Economic Forum c'è Christine Lagarde che attualmente è presidente della BCE della Banca Centrale Europea ed è ex direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale e poi c'è anche l'attuale direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale che si chiama Cristalina Giorgeva e che a sua volta lei è ex direttrice generale della Banca Mondiale quindi praticamente si scambiano i ruoli ma come anche Draghi l'abbiamo visto anche con Draghi Draghi che era presidente della BCE e poi a un certo punto nel 2019 è stato appunto sostituito dalla Lagarde si scambiano i ruoli cioè è così sono sempre loro alla fine si spostano solo di mansione eh sì infatti Cristina com'era com'è la poltrona su cui sei stata per due anni ah come dici ah faccio un giretto io l'anno prossimo ok ecco grazie così non la devo cambiare grazie ecco beh sincero veramente guarda allora eh questo documento poi appunto che abbiamo scovato eh è un documento del addirittura del 2002 quindi stiamo a un anno nemmeno no nemmeno a un anno a pochi mesi diciamo dall'11 settembre eh sì infatti c'è una particolarità che mi ha colpito proprio di questo di questo articolo oltre al fatto che parla appunto della eh dei leader religiosi che per la prima volta eh avrebbero partecipato al alla riunione del forum di Davos ma poi soprattutto la cosa che mi ha colpito è un particolare proprio della vita di Schwab che adesso forse non so se lo vuoi dire tu o se no no vai vai eh allora Schwab il giorno la mattina proprio degli attentati dell'11 settembre al World Trade Center si trovava proprio a New York questa è bella ragazzi vai vai stava a New York guarda questa di tutto l'articolo di tutto questo articolo è stata la cosa che mi ha colpito di più l'ho subito sottolineata infatti perché appunto lui si trovava a New York e stava facendo colazione con il rabbino Arthur Schneier nella sua sinagoga di Park East a New York appunto e guarda caso si trovava proprio lì e si trovava con un personaggio che insomma non è che era proprio l'ultimo arrivato era un personaggio importante era appunto il rabbino di questa sinagoga di New York che chiaramente non è l'unica sinagoga che c'è a New York però se questo era a colazione con Klaus Schwab sicuramente non è un personaggio qualsiasi non è che tutti possono permettersi di andare a colazione con Schwab insomma e lui era lì proprio la mattina degli attentati dell'11 settembre eh sì infatti allora in questo incontro praticamente lui porta queste personalità dentro Davos perché e qui diciamo in un certo senso già si preannuncia poi in qualche modo proprio il fatto di voler cioè di cercare di capire insomma come come gestire questa cosa con le religioni perché comunque l'11 settembre per loro è una data importante cioè in questo incontro insomma ecco vi leggo proprio testualmente vi cito insomma questa questa cosa dice l'11 settembre dimostrato con più forza che mai che la religione può essere terribilmente abusata per scopi violenti che possono colpire tutti noi e questo lo dice questo rabbino David Rosen lui appunto poi c'è questo fatto appunto che diceva Stefania cioè dell'11 settembre quando Schwab sta con il rabbino nella sinacologa di Parkist e Schneier che dirige la Pillow Conscience Foundation è una coalizione di imprenditori e leader religiosi di New York lui aveva intenzione di discutere una maggiore partecipazione dei leader religiosi al forum economico dice quindi dopo questo attentato l'idea è sembrata ancora più urgente insomma dice con l'aiuto di questo Schneier di questo rabbino Schwab decidere di commemorare il disastro mondiale spostando il forum che tradizionalmente si teneva a Davos a New York e raddoppia il numero dei leader religiosi portandola a 40 tra cui 8 ebrei mentre negli ultimi decenni le nazioni occidentali hanno allontanato la religione dalla vita pubblica la nuova linea del forum è quella di abbracciare la religione comprendere le sue tradizioni e raccogliere la sua saggezza e guardate un po' anche che operazione è stata fatta col Vaticano insomma il fatto che ci sia andato un Papa che praticamente adesso sta dicendo che la tecnologia è importantissima cioè io ho letto ultimamente una cosa proprio non so se ieri o oggi addirittura mi ha lasciato veramente stupita quest'altra frase che ha detto vabbè comunque però insomma ecco vedete come loro comunque si sono anche allargati in qualche modo e hanno cooptato anche i movimenti religiosi poi c'è quest'altro passaggio che era interessante dove diceva l'11 settembre esemplifica come i gruppi religiosi in cerca di potere abbiano un effetto devastante sul mondo e questo lo dice Sacks dobbiamo assicurarci che la lezione venga appresa senza una tragedia troppo grande poi è strano che comunque poi è uscita fuori tutta la guerra contro no? cioè poi hanno messo in piedi anche Al-Qaeda cioè è interessante diciamo tutto tutto lo sviluppo in qualche modo che c'è stato se vogliamo allora allora poi c'è il forum economico è arrivato sulla scia dell'incontro interreligioso di Papa Giovanni e Paolo II il mese scorso ad Assisi in Italia in un vertice di leader religiosi ad Alessandria in Egitto e di un recente incontro di leader religiosi alle Nazioni Unite allora Sacks ha ricordato che il primo ministro britannico Tony Blair eccolo là ha chiamato i leader religiosi del paese al numero 10 di Downing Street dopo l'11 settembre per aiutare a calmare l'atmosfera in Gran Bretagna cioè evidentemente già anche gli stava un po' scappando di mano sta cosa io non lo so cioè il fatto che ormai avevano detto che erano stati gli islamici a far cadere queste torri gemelle e che dici Stefania cioè è interessante rileggere pure che clima magari c'era in quei mesi insomma perché poi alla fine parliamo semplicemente di cinque mesi dopo eh sì infatti infatti io quando avevo aperto questo articolo non avevo visto la data no e dopo sono andata a guardarla ma quando ho letto le prime frasi infatti non capivo questi riferimenti appunto all'11 settembre poi ho visto la data e ho visto che appunto era del 2002 e sì infatti è è interessante rileggere tutti questi ormai vent'anni più di vent'anni alla luce di questo eh sì 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 allora vediamo poi vi continuo a leggere questo documento i rabbini presenti al forum hanno detto che i leader religiosi a volte possono creare fiducia laddove i politici non possono Sacks che ha sviluppato amicizie con leader musulmani in Inghilterra ha descritto un linguaggio comune tra le persone di fede gli scettici tuttavia notano che i partecipanti musulmani ai dialoghi interreligiosi pur criticando la violenza spesso la formulano in modo da legittimare gli attacchi arabi contro Israele gli esperti israeliani ad esempio hanno notato che i chierici musulmani che hanno contribuito a redigere la dichiarazione pacifica del vertice di gennaio ad Alessandria che ha definito l'omicidio di innocenti una profanazione del nome di Dio hanno comunque rifiutato di condannare gli attuali attacchi terroristici contro Israele inoltre alcuni sostengono che la decisione del forum economico di aggiungere un elemento religioso alla conferenza non sia del tutto altruistica un leader religioso coinvolto ha descritto i pannelli religiosi come una foglia di fico per la visione capitalista del forum progettata per sviare le critiche mosse del crescente movimento antiglobalizzazione quindi ecco rientriamo proprio veramente in quel clima in una YWCA non lontana dal Waldorf Farstory la conferenza alternativa Eye on Davos era impegnata a criticare il forum Mark Helm portavoce di Friends of the Earth un'organizzazione ambientalista è uno dei coordinatori della conferenza alternativa ha definito discutibile l'inclusione dei leader religiosi nel forum è un buon inizio certo ha detto ma non c'è nulla che indichi che l'incorporazione dei leader religiosi abbia causato un'epifania per questi inquinatori globali quindi già all'epoca erano sotto il mirino diciamo degli ambientalisti i signori di Davos allora i leader ebraici hanno descritto la dinamica interreligiosa del forum come calda e ricettiva ma Rosen ha detto che è comprensibile che alcuni possano considerarlo un gesto simbolico senza alcun effetto reale poiché Schwab il presidente del forum ha offerto loro una tra virgolette integrazione limitata chiuso le virgolette quest'anno come modo per testare gradualmente l'accordo Rosen ha detto che il prossimo anno dimostrerà se il forum intende davvero integrare completamente i leader religiosi allora poi c'è qui poi continua e c'è poi questa parte che io o forse non ricordavo la parte finale diciamo che è interessante dove dice che la conferenza non ha visto qui parliamo della conferenza a New York quindi quella che sarà fatta a New York perché poi che cosa è successo che la domenica mattina ha portato 60 leader religiosi ground zero per una cerimonia di preghiera riflessione e accensione di candele accanto al rabbino capo Ashkenazita di israele israel meir lau a sua eminenza sarà mustafa ceric non so se si al gran mufti di bosnia e a cari a cari shnaier ha detto dobbiamo impegnarci a invocare il nome di dio per la vita e non per la morte per la pace non per la lotta per la tolleranza e non per l'oppressione ha fatto riferimento al quarto comandamento di nominare di non nominare il nome del signore invano e membri di ogni religione poi hanno recitato i tradizionali preghiere commemorative e il gruppo ha concluso tenendosi per mano e cantando We Shall Overcome Schwab e gli altri membri del gruppo erano in lacrime il fatto che i leader religiosi siano stati inseriti in un ma ci crede proprio allora lui vabbè siano stati inseriti in un dialogo con i leader politici e gli amministratori delegati è di grande valore ha detto Schneier perché dopo l'11 settembre quando si parlerà di rivalutare le priorità e i valori noi leader religiosi avremo l'orecchio della gente e questo era questa il finale diciamo di questa nota non so se ci sono dei commenti da parte tua Stefania no no su questo no però invece mi è venuta in mente un'altra cosa sempre riguardo ai legami con il mondo ebraico o con Israele è che c'è un altro personaggio interessante legato anche lui al World Economic Forum che è Yuval Harari che è uno storico filosofo autore di diversi libri e lui praticamente è un po' da alcuni è un po' considerato l'ideologo che sta dietro al World Economic Forum cioè mentre gli altri sono tutti economisti o comunque persone che hanno che fare con la politica e l'economia a vari livelli e l'imprenditoria lui sarebbe un po' l'ideologo il filosofo che c'è dietro al forum e lui teorizza infatti tutto quello di cui noi abbiamo parlato fino adesso quindi l'unione uomo-macchina il transumanesimo il fatto che la morte è soltanto un fatto tecnico diciamo un qualcosa di meccanico che quindi si può risolvere si può curare diciamo guarire come se fosse una malattia teorizza l'immortalità ma l'immortalità del corpo chiaramente non l'immortalità dell'anima quindi tutti questi elementi che poi appunto spesso erano venuti fuori anche in altre puntate che avevamo fatto anche puntate appunto più spirituali che avevamo fatto per esempio viene in mente quella che avevamo fatto con Piero Cammerinesi e Piero Priorini sulla divisione delle due umanità quindi l'umanità che è davvero umana e che va sempre di più verso un'evoluzione e invece l'umanità che invece di umano ha poco nulla che va verso l'unione con la tecnologia e con le macchine e quindi questo Harari anche lui è un personaggio molto interessante e dico questo perché lui è israeliano è nato proprio in Israele ed è ed è di di cultura ebraica diciamo adesso non lo so se poi lui con queste teorie che porta avanti che chiaramente non hanno niente di spirituale anzi sono completamente antispirituali però comunque fatto sta che lui è ebreo israeliano quindi questo è un altro collegamento con tra il World Economic Forum e il mondo ebraico ed Israele sì che io comincio sempre più a sospettare che sia un mondo ebraico completamente distorto certo sì sì non ha niente a che fare con la spiritualità ebraica assolutamente è bastato anche comunque vedere quello proprio che è successo con il covid e anche con i vaccini cioè nel senso che i rabbini proprio di i rabbini veramente ebraici si sono completamente opposti proprio ai vaccini per cui hanno proprio addirittura diramato un comunicato ben preciso dove loro dicevano che questa roba per loro è una cosa proprio veramente anti-umana per cui non hanno trovato diciamo il favore del mondo spirituale ebraico insomma ecco questo è poco ma sicuro quindi non so loro come vengono visti a casa loro questi personaggi io adesso chiaramente non lo so non posso immaginarlo però diciamo mi baso poi anche su alcune cose che sono realmente accadute per cui basta fare una ricerca e vedere insomma che comunque è andata così lì in Israele per quello che riguardava questa storia dei vaccini io farei un'altra piccola pausa musicale e poi riprendiamo perché poi ci sono anche un po' di note di colore diciamo da raccontare su questo incontro che si sta tenendo sui Svizzera allora ci andiamo ad ascoltare sono andato a rispolverare dopo tanto tempo Marta in The Muffins che trovo che sia stato un gruppo veramente interessante negli anni 80 e in particolare da Dance Park ci andiamo ad ascoltare World Without Borders allora è un mondo senza confini ma vabbè magari allora Stefania ci sei? sì 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 ci sono ok bene allora che c'è qua Pietro qui allora vediamo leggiamo intanto qualcosa allora io leggo Sandro e poi ti passo sulla palla per Pietro sarà dura contrastarli nonostante sia evidente il marcio e le menzogne che ci circondano la massa immobile e ipnotizzata ebbè ce ne sta ancora tanta sì però eh sì d'altronde la massa è massa non la massa non è individuo è questo il punto eh sì purtroppo sì però insomma speriamo sempre bene speriamo sempre bene io io sono sempre molto poco catastrofista diciamo così allora poi c'era Pietro anche che diceva tira in ballo Greta e vabbè a questo punto ci dobbiamo giocare questa carta di Greta Stefania eh sì perché infatti allora Pietro dice a proposito di Greta oggi in titolo flash di una sua dichiarazione sul clima ci avete mentito cosa intenderà secondo voi eh ma infatti oggi è uscita questa notizia eh che mi ha anche un po' stupito lì per lì e c'è che Greta è andata a Davos oggi proprio ma non l'hanno arrestata già l'hanno rilasciata no in realtà non l'hanno arrestata perché ecco anche questa è una cosa che è successa sì qualche giorno fa c'era una che cos'era una miniera di carbone non mi ricordo che posto era è uscito il video credo non so se ieri proprio sì ieri ha fatto il giro del mondo anche se hanno cercato ho sentito che hanno cercato anche di censurarlo sì sì che praticamente si vedeva lei che veniva portata via dai poliziotti in realtà hanno detto che non è stata arrestata ma che è stata solo identificata e portata via è riconoscibilissima eh sì ma sai devono fare queste cose formali quindi pare che sia stata solo presa e portata via cioè non è stata arrestata diciamo eh almeno questo è quello che che dicono ufficialmente poi secondo me anche quella è stata tutta la messa in scena cioè un teatrino c'era uno truccato c'era c'era il boom dietro c'era c'era il microfono dietro c'era tutto era tutto ma sì è stato fatto tutto sì sì è stato fatto tutto in favore di telecamera chiaramente cioè per far vedere che comunque lei è contro è contro il potere e infatti viene anche identificata dalla polizia comunque fatto sta che oggi è andata a Davos e ha attaccato il forum di Davos e ha detto che i personaggi che ne fanno parte e anche tutti quelli che sono lì riuniti quindi anche quelli che non fanno parte diciamo del board dei membri ma anche tutti gli invitati praticamente quindi tutta l'elite mondiale perché praticamente in questi giorni lì a Davos si può dire che c'è l'elite mondiale della politica dell'economia eccetera quindi lei ha detto che tutti questi personaggi sono proprio quelli che stanno distruggendo il pianeta e che per questo motivo non vanno non vanno ascoltati cioè lei diceva che ma che che ci facciamo qui sostanzialmente ad ascoltare questi che parlano ma poi sono quelli che realmente con la loro economia stanno distruggendo il pianeta però anche qui io sono sempre complottista ci vedo sempre un gioco delle parti cioè un voler comunque far vedere che c'è lei che parla contro i potenti del mondo perché comunque lei si è creata questa immagine no anche quel famoso discorso all'ONU che fece in cui puntò il dito contro i potenti del mondo peccato che gli stessi potenti sono quelli che che stanno dietro all'operazione messa in piedi proprio con il suo personaggio quindi insomma c'è una leggerissima contraddizione però ecco questa notizia l'ho letta poco prima di iniziare la trasmissione infatti mi ha colpito no io non l'avevo proprio vista a me è sfuggita infatti io sono rimasto molto colpito proprio poi appunto dalla domanda cioè cosa intenderà secondo voi la domanda di Pietro forse si accorta che faceva secondo me siccome io alle cose complottiste non ci credo io credo molto di più che lei si accorta che faceva freddo e quindi gli hanno mentito perché in Germania faceva freddo e a Davos c'era neve non è riscaldata globalmente Davos per cui secondo me è quello secondo me ha capito che non fa tanto caldo ma fa freddo quindi adesso comincerà a dire no era tutta una balla questa del riscaldamento globale in realtà c'è raffreddamento globale secondo me si fra un po' la vedremo dire ste cose va bene bisogna anche riderci un po' sopra perché veramente queste cose risentavano veramente il ridicolo allora non so se tu avevi altre cose da dirci perché allora io diciamo queste cose qui le ho lette poi c'era qualcosa proprio sul World Economic Forum ma dimmi tu Stefania come vogliamo beh allora una cosa che possiamo dire è proprio sull'opposizione all'World Economic Forum e comunque tutta questa elite globale visto che anche negli altri articoli che abbiamo preso in esame prima c'era qualche riferimento anche per esempio nell'ultimo quello del 2002 c'era riferimento ai movimenti no global che in quegli anni si stavano espandendo diciamo erano già nati da qualche anno ma stavano prendendo piede questi movimenti no global e infatti la cosa questa è un'altra cosa che colpisce diciamo di di tutto questo non ci dimentichiamo che c'era stato già pure tutto il discorso di Genova anno prima no quello ah beh sì nel 2001 nel 2001 sì sì pochi mesi prima pochi mesi prima infatti c'era stato il G8 a Genova con tutto tutto il casino che c'è stato e tutto quello che sappiamo e infatti la cosa che colpisce è proprio questa cioè il fatto che in quegli anni c'era un'opposizione a questo tipo di capitalismo e di globalizzazione portata avanti da dal World Economic Forum e anche da altri gruppi di potere ed era proprio ad opera di questi movimenti no global che poi erano principalmente diciamo riconducibili al mondo di sinistra e invece adesso si è ribaltato tutto cioè adesso il mondo cosiddetto progressista o che si autodefinisce progressista ovviamente non parlo del PD perché il PD lo considero un partito cioè che non ha proprio niente di sinistra neanche di centro sinistra ma anche proprio quelli che ideologicamente si definiscono di sinistra sono molto più vicini invece alle idee portate avanti proprio dal World Economic Forum quindi quest'idea del transumanesimo della fusione uomo-macchina della digitalizzazione cioè sono molto più è un certo mondo di sinistra o pseudo-tale che appoggia tutto questo mentre invece vent'anni fa erano contro vent'anni fa c'era il movimento no global o comunque anche altri movimenti di sinistra che erano contro e adesso invece li sostengono e poi anche da parte della stampa mainstream c'è tutto il discorso del del fatto di considerare tutto questo anche tutto questo che noi abbiamo detto in trasmissione oggi tutte teorie complottiste chiaramente vengono considerate nonostante basti leggere il libro scritto proprio da Schwab dove ci sono scritte tutte queste cose non è che sono teorie complottiste appunto sono state scritte da lui sono le cose che dice lui e però vengono considerate tutte teorie complottiste portate avanti dagli ambienti di destra da ambienti anche eversivi neofascisti quindi c'è stato un ribaltamento anche riguardo a questo cioè adesso essere diciamo opporsi ai progetti del World Economic Forum significa essere complottisti e di destra secondo la stampa mainstream mentre invece vent'anni fa era il contrario vent'anni fa erano di sinistra anarchici tutto quel mondo lì che invece adesso sono tra i primi sostenitori di tutti questi progetti eh sì 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 ma è interessante diciamo anche notare allora c'è stata anche per esempio questa presa di posizione addirittura di anche di Elon Musk che è un personaggio diciamo sui generis veramente sui generis perché perché non si capisce bene cos'è che voglia fare questo signore cioè nel senso io poi allora comunque sia ha criticato completamente sia Schwab che il World Economic Forum cioè proprio l'ha definito insomma diciamo questi che si credono di essere insomma i padroni del mondo ma non vi segue nessuno insomma quindi già diciamo ci sono dei segnali comunque strani che si stanno che iniziano a uscire fuori secondo me perché insomma è in dubbio che comunque uno come Musk sarebbe dovuto stare diciamo in una conferenza come quella di oggi considerata insomma e poi oltretutto lui produce macchine elettriche per cui c'è tutti gli interessi insomma anche se comunque io penso che la macchina elettrica nel giro di cinque anni se la danno in faccia a tutti perché se è vero quello che già per esempio preannuncia la Toyota non so quello che potranno fare insomma perché se c'è l'intenzione di costruire una macchina di costruire già esiste in realtà è il motore a idrogeno per cui ad acqua se vogliamo le macchine elettriche se le danno in faccia anche perché sanno benissimo che comunque sono un problema anche di sostenibilità perché comunque queste batterie non si sa come vengono poi smaltite nel tempo e per cui comunque producono un grande inquinamento anche loro per cui a questo punto io penso che ci sarà una virata molto forte nel giro di pochi anni insomma in questo senso sì e poi per quanto riguarda Elon Musk è veramente particolare perché lui sì l'abbiamo visto anche negli anni passati che spesso ha portato avanti proprio con le sue teorie i suoi progetti anche proprio questo discorso del transumanesimo lui è tra i più grandi sostenitori di tutto questo poi però ultimamente soprattutto sta prendendo delle posizioni insomma che divergono dal dal pensiero dominante mi sembra un po' una scheggia impazzita Musk perché intanto perché lui di base è completamente matto cioè credo che abbia anche sia anche un asperger quindi insomma è particolare proprio come funziona lui proprio come ragiona però ultimamente si sta proprio prendendo delle posizioni ma anche sulla gestione del covid negli Stati Uniti su diverse cose ha preso delle posizioni divergenti rispetto al pensiero dominante molto più di altri come Bezos per esempio di Amazon che invece è completamente allineato mentre invece Musk sembra a volte veramente una scheggia impazzita e con questo non è che sto dicendo che è contro il sistema cioè non assolutamente chiaramente non è questo no no assolutamente e non aspettatevelo insomma d'altronde cioè lui è un imprenditore che quindi guarda diciamo ai suoi business prima di tutto però evidentemente qualcosa è scattato nel senso che ha capito che comunque questa politica di restrizioni che c'è stata non porta comunque bene a nessun tipo d'economia neanche a quella che loro si sognano e si inventano perché comunque l'economia diciamo hanno guadagnato solamente alcuni settori diciamo dell'economia riguardo al covid ma non tutta insomma questo è poco ma sicuro la nota di colore interessante anche di quello che è successo in questa giornata per esempio è stato un po' questo assalto di questi giornalisti canadesi a burla l'amministratore delegato della Pfizer che stava a Davos l'hanno beccato per strada e l'hanno tempestato di domande lui non si è degnato di dare una risposta ha semplicemente risposto buongiorno buonasera state bene cose di questo tipo insomma il classico diciamo però si è completamente trincerato diciamo dietro un silenzio impenetrabile di fronte diciamo a domande riguardo al fatto se lui sapesse o meno che questo vaccino funzionava che non era un vaccino quanti soldi ha preso se non è ancora soddisfatto di tutto quello che ha incassato e poi diciamo le domande più dure sono state il fatto una delle più dure è stata lei si rende conto del fatto che lei dovrebbe andare di fronte a una corte penale insomma sono stati parecchio duri diciamo questi questi giornalisti nei suoi confronti lui non ha dato nessunissima risposta poi è entrato dentro da qualche parte non so dove però insomma questa è stata una cosa abbastanza interessante che è successa diciamo c'è un pressing comunque abbastanza forte vedo diciamo riguardo a questo meeting quest'anno che di solito insomma non non era così ma quest'anno li vedo abbastanza ci sono diciamo delle frange abbastanza guerrite insomma ecco diciamo così sì sì infatti la cosa che ho notato è che ci sono appunto questi giornalisti indipendenti come questi che hai citato dall'altra parte c'è la tendenza a fare da parte della stampa mainstream chiaramente a fare quasi da ufficio stampa praticamente alle dichiarazioni che escono dalle riunioni anche se questo va sottolineato quello che esce dalle riunioni è forse il 10% di quello che viene detto realmente ed è quello che vogliono farci sapere non è quello che realmente poi decidono a porte chiuse non è che noi sappiamo tutto quello che è stato detto e comunque c'è appunto questa questa cosa che la stampa mainstream e ho visto non solo in Italia ma anche anche in altri in altri stati in altri paesi anche lo stesso New York Times è stato anche criticato tra l'altro dalla sua ex direttrice che ha usato delle parole molto forti nei confronti dei giornalisti del New York Times che fanno praticamente sì da ufficio stampa perché si limitano semplicemente a riportare quello che viene detto difendendo anche questo gruppo ma questo è chiaro è sempre stato così e sempre così sarà però c'è proprio un appiattimento da questo punto di vista soprattutto negli ultimi anni e anche quest'anno e poi però per fortuna ci sono anche giornalisti indipendenti come quelli che hai citato insomma sì che poi diciamo non sono stati ammessi ovviamente alle varie riunioni nelle quali diciamo alle conferenze stampa perché chiaramente questi non hanno avuto accrediti per cui sono rimasti tutti fuori però diciamo di fuori hanno se 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 beccano il personaggio comunque cercano in qualche modo insomma di 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 placcarlo diciamo così perché ho saputo anche di tantissimi giornalisti che non a cui è stato negato comunque l'accredito quindi è un è veramente molto blindata come cosa e quindi ovviamente poi gli articoli che vengono scritti dalla stampa diciamo che è completamente asservita a questi signori perché viene pagata da questi signori d'altronde scrivono quello che gli dicono di scrivere poi alla fine eh sì ecco a proposito di di stampa che che è pagata da 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 questi signori sì appunto una cosa che non abbiamo detto è che il libro non il libro The Great Reset ma un altro libro che ha scritto Klaus Schwab nel 2016 che si intitola La Quarta Rivoluzione Industriale perché appunto lui teorizza la appunto questa quarta rivoluzione industriale che sarebbe la digitalizzazione sostanzialmente cioè la 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 presenza costante sempre più forte del 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 mondo digitale e del è quasi proprio un superamento anche dell'attuale concezione che noi abbiamo di internet per esempio quindi anche i discorsi sul metaverso tutte queste cose qui quindi ecco lui teorizza questa cosiddetta quarta rivoluzione industriale e ha intitolato così il suo libro nell'edizione italiana la prefazione è stata fatta da John Elkan tanto per dire tanto per parlare di stampa che è governata da questi signori e quindi adesso mi è venuto in mente perché appunto non l'avevamo detto prima e che questo poi vedi che poi mi vengono tutti i collegamenti no allora nel nel in uno dei documenti che mi avevi mandato adesso vado a riprendermelo a un certo punto c'è è citata una frase di Samuel Huntington che è il famoso politologo americano autore del saggio la crisi delle civiltà the clash of civilization ed è anche autore dell'altrettanto famoso studio commissionato dalla commissione trilaterale intitolato la crisi della democrazia che è stato fatto negli anni settanta è un po' diciamo alla base di tutto quello che poi è successo nei decenni successivi infatti viene spesso citato quando si parla della commissione trilaterale c'è questo studio commissionato a Samuel Huntington e ad altri studiosi allora questo l'ho detto perché Samuel Huntington appunto nell'edizione italiana di questo studio la prefazione era di Gianni Agnelli quindi vedete come ritornano si passano ritornano però Samuel Huntington è critico nei confronti di Davos perché questa frase che è riportata in questo documento appunto che mi avevi mandato viene detto che Samuel Huntington ha etichettato il gruppo quindi il forum di Davos come un luogo di ritrovo per l'elite e ha coniato il termine uomo di Davos un riferimento peggiorativo ai membri del World Economic Forum che secondo lui possedevano un errato senso di identità internazionale quindi lo stesso Samuel Huntington dopo tutto quello che ha fatto o proprio per quello di cui si è occupato in passato è critico nei confronti era perlomeno critico perché qui si riferisce a forse sempre alla fine degli anni 90 tra gli anni 90 e i primi 2000 quindi sempre il periodo che abbiamo detto prima quando c'erano i movimenti no global però è interessante questa cosa e anche questi corsi e ricorsi storici prefazione di Gianni Agnelli prefazione di John Elkan al libro di Schwab quindi vedete come ritornano questi personaggi sempre sì 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 poi ma già che ci siamo possiamo anche buttarla lì insomma chiaramente non ve le snocciolo tutte perché però ecco insomma sono riuscito anche sono andato a trovare quanto dichiara il World il World Economic Forum almeno diciamo nel c'era il diciamo sarà questa sarà la dichiarazione dei redditi delle società in Svizzera scusate e per il 2020 loro avevano praticamente un un bilancio pari a 360 milioni mi sbaglio e se no sì mi sbaglio Stefania sto leggendo bene 360 allora devo andare a riprendermelo un attimo perché è interessante perché poi c'erano anche quanto loro prendevano di quanto prendevano annualmente penso insomma diciamo tutti i personaggi che stavano lì in sì sì allora dovrebbe essere sì 360 milioni 639 mila eccetera dollari di dollari sì esatto Schwab prendeva nel 2020 solo un milione e 106 e 106 orello sì poverino insomma gli altri gli altri stavano tra i 900 e i 500 insomma vabbè insomma è interessante perché c'è un bel giro di soldi lì dentro insomma vedo questo poi era il 2020 per cui ovvero è così allora c'era Pietro che dice che diciamo che quest'anno tra funerali e arresti eccellenti quest'anno abbiamo appena iniziato appena ha cominciato l'anno Pietro siamo solamente al 19 di gennaio allora tra funerali e arresti si è dato poco spazio al forum potrebbe essere interessante vedere se la meloni verrà tirata in ballo ma sembra che lei non credo che ci vada o comunque sembrerebbe di no per il momento abbiamo un ex bibitaro che ci ha andato dovremmo cercare di capire che ci ha andato a fare insomma forse lo assumono lì vediamo un po' come dai le bibite se sei bravo se sei bravo sei sempre la questione che sollevi Stefani è probabile le destre sembrano i nemici attuali ma poi assecondano l'OBC e company non so se vuoi rispondere assolutamente ma infatti è tutto un gioco delle parti non c'è un buono un cattivo è chiaro che anche le destre o le cosiddette destre perché insomma cioè ormai di veramente ideologico di destra e di sinistra c'è proprio poco se non niente quindi è chiaro che sì anche loro sono fanno assolutamente parte del piano non è che non è che sono contro il sistema tant'è che ecco per esempio la Meloni che lui ha citato anni fa ma neanche tantissimi anni fa si parla di pochi anni fa diceva cose per esempio completamente diverse sulla questione ucraina e sulla questione russa quindi adesso invece che al governo chiaramente sostiene è assolutamente Zelensky è completamente allineata quindi sì è così vabbè ma poi quando c'hai un ministro no che è coinvolto cioè che è direttamente interessato diciamo vendite di armi e sistemi d'arma e quant'altro insomma per cui più chiaro di così cioè non c'è un politico in Italia che vuole staccarsi né dal né dal dagli Stati Uniti né dalla Nato non c'è nessun politico che vuole fare gli interessi dell'Italia realmente no ma anche perché se ci fosse non glielo farebbero fare oltretutto infatti durerebbe lo spazio di pochissimo insomma altro che altro che Matteo Messina a denaro che viene arrestato insomma non scherziamo ragazzi va bene allora non so se penso che più o meno siamo arrivati al finale diciamo era interessante io quello forse ecco possiamo ecco buttarla così o magari concluderla così stasera era interessante diciamo la configurazione astrale che c'è stata all'inizio di questa riunione ne stavamo parlando prima fuori onda io e Stefania prima di iniziare la trasmissione magari ecco rendersi conto del fatto che comunque questi signori non fanno le cose a caso diciamo hanno trovato una configurazione astrale per aprire questo questo meeting diciamo così ma secondo me come al solito il diavolo fa sempre le pentole ma non i coperchi poi tra l'altro c'è Mercurio che adesso ridiventa anche diretto non so se sta cosa l'hanno notata i maghetti che si divertono a fare ste cose ah sì ma comunque sicuramente appunto non fanno le cose a caso e conoscono benissimo l'astrologia e nonostante poi invece nel mondo mainstream nel mondo ufficiale venga costantemente dileggiata o comunque considerata una cosa da da oroscopi sui giornali ma invece loro conoscono bene la vera astrologia quindi sì sicuramente non non hanno scelto a caso anche questa data hanno trovato comunque chiaramente questo forum viene sempre fatto in questo periodo verso la fine di gennaio però comunque ci sono sempre dei momenti più propizi di altri hanno i loro esperti diciamo oppure i loro esperti li guidano e gli dicono come devono fare le cose a questi signori perché tanti di questi sono pure proprio completamente inconsapevoli secondo me del giro di cui fanno parte ah sì sì beh certo non è che tutti ne sono consapevoli anzi sicuramente una minima parte quelli quelli che stanno veramente in alto ne sono forse consapevoli forse neanche di tutto non è che sono non sono onnipotenti anzi proprio perché non lo sono vengono proprio utilizzati come dei burattini perché anche anche questo schwab di cui abbiamo parlato stasera sì sarà potente quanto vogliamo ma ma rimane sempre un burattino infatti allora con questo io direi siamo arrivati al finale per questa sera allora detto questo io do la buonanotte a tutti do la buonanotte a Stefania buonanotte buonanotte a tutti e io vi lascio con un bel brano del bravo Ravi Shankar da Inside the Kremlin vi lascio con un bel mantra questo è Shanti Mantra buonanotte a tutti e come sempre l'appuntamento è giovedì prossimo sempre qui su Spreaker con noi di Forme Donda buonanotte a tutti di Forme Donda